musica 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 ok 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 siamo arrivati ci sei mai? si pian piano ce l'ho fatta ce l'ho fatta si 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 scassiniamo la serratura ho bisogno di un po' di luce innanzitutto ok perfetto speriamo che sia quella giusta si è questa e vai entriamo e vediamo cosa c'è di interessante no ok vediamo dove è la cassa eccola qui trovata adesso dobbiamo solo più portarla via ok prendiamo quello che volevamo la cazzo ahahah 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 nessuno più una tagliera di money vero Mike? verissimo Mike verissimo ahahah il rumore dei big money ora direi che possiamo pure andarcene andiamocene non abbiamo tanto tempo dobbiamo andarcene immediatamente e per immediatamente intendo adesso in questo preciso istante questo Mike per fare prima sgancia il il moschettone quello nero mi raccomando quello nero quello nero ah si ok te lo tengo subito ho preso quella gialla oh oh signor della croce e via oh ragazzi buongiorno oh oh eeeh 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 perchè gridate come oche? perchè ci hanno fregato la cassa è una cosa terribile chiamate la polizia subito immediatamente cosa hai detto? siamo fatti di chetamina scorreggiati in cucina ci dette la nonnina ma ragazzi ho detto chiamate la polizia eeeh eeeh voglio vedere questa è un'arma che ho trovato io per terra è l'arma del delitto voglio vedere a eeeh eeeh come la usa eeeh eeeh da pochiamo subito il 118 non è vero c'ha gli occhi foderati di prosciutto eeeh